Ha un muso puntito e grande, gli occhi sono azzurri e marroni come quelli dell'aquila. Ha i denti affilati come quelli di un uncino, le orecchie sono cadenti e allungate come grandi padiglioni. La pelliccia è morbida come un cuscino di color beige chiaro, come il sole che tramonta. Ha le zampe lunghe e agili, ha la coda lunga e pelosa. Il mio cane sculetta quando cammina. La mia cane è simpatica, a parte qualche volta quando vede altri cani, allora si mette ad abbaiare. Anche quando vede altre persone che non conosce, abbaglia moltissimo. Se corre veloce vuol dire che è molto felice. Se è in casa e sente suonare il campanello, abbaglia e corre scolenzialando verso la porta. La mia bricciola è un cane simpatico e fa un'ottima guardia alla mia casa e alla mia famiglia. La mia cane è desi. Io ho un cane, è un pastore tedesco, si chiama desi, ha tre anni e mezzo ed è una femmina. Ha il muso leggermente appuntito, gli occhi curiosi, i denti aguzzi e taglienti, le orecchie rite attente ad ogni movimento. Ha la pelliccia ispida, nel corpo è un po' ruffata nelle poste. Io mi diverto con lei e quando sono molto stanco, lei mi rilassa. Quando sono triste, lei mi consola. Io vorrei stare sempre con il mio cane desi.